Ciao a tutti ragazzi, in questa video lezione vogliamo risolvere la seguente disequazione lineare. Abbiamo 5 noni più 3x più 2 per 3x meno 2. Questa è una somma per differenza, quindi un prodotto notevole, che è uguale a 3x elevato al quadrato, quindi 9x al quadrato, meno 2 elevato al quadrato, quindi meno 4, somma per differenza che diventa una differenza di quadrati, maggiore di 8x al quadrato più x più 2 terzi elevato al quadrato, questo è uguale a x al quadrato più 2 terzi elevato al quadrato, quindi 4 noni, più il doppio prodotto, 3x e 2 terzi, quindi 4 terzi x più 2 per 2 più 3x fratto 3, questo è uguale a 4 più 6x fratto 3, quindi a 4 terzi più 6 terzi per x, quindi più 2x. Infine abbiamo meno 3. Sostituendo adesso quanto appena ottenuto nella nostra disequazione, si ha la seguente di disequazione equivalente 5 noni più 9x al quadrato meno 4 maggiore di 8x al quadrato più x al quadrato più 4 noni più 4 terzi x più 4 terzi più 2x. infine meno 3. Adesso osserviamo che al secondo membro abbiamo 8x al quadrato più x al quadrato, quindi 9x al quadrato. Al primo membro abbiamo 9x al quadrato, quindi possiamo cancellare questi termini per una conseguenza del secondo principio di equivalenza per le disequazioni. Ciò che rimane è 5 noni meno 4 maggiore di 4 noni più 4 terzi x più 4 terzi più 2x meno 3. Ora, per rendere i nostri calcoli più semplici, moltiplichiamo sia il primo sia il secondo membro di questa disequazione per il minimo comune multiplo tra 9 e 3, quindi per 9. Si ha 5 noni quindi 5, quindi 5, meno 9 per 4, 36, maggiore di 4 noni per 9, quindi 4, più 4 terzi per 9, quindi 12x più 4 terzi per 9, quindi più 12, più 9 per 2x, 18x, meno 3 per 9, 27. Sommiamo adesso i termini simili. Sommiamo adesso i termini simili. Si ha al primo membro 5 meno 36, quindi meno 31, maggiore. Al secondo membro abbiamo 4 più 12, 16, meno 27, meno 11, quindi meno 31, più 12x, più 18x, quindi più 30x. La disequazione che dobbiamo risolvere quindi è meno 31, maggiore di meno 11 più 30x. Trasportiamo adesso meno 31 dal primo membro al secondo e più 30x dal secondo membro al primo, invertendo nei segni. Si ha meno 30x maggiore di meno 11 che resta com'è più 31, da qui si ha meno 30x maggiore di meno 11 più 31, quindi di più 20. Visto che il termine in x ha il primo membro preceduto dal segno meno, moltiplichiamo per meno 1 ambo i membri di questa disequazione. Dobbiamo naturalmente cambiare nel verso. Si ha 30x minore di meno 20. Da qui, se dividiamo ambo i membri per 30, che è il coefficiente del termine in x, si ha 30x diviso 30, quindi x minore di meno 20 diviso 30, quindi semplificando x minore di meno 2 terzi, che è la soluzione cercata. Da un punto di vista grafico abbiamo la seguente situazione. Abbiamo indicato sulla retta dei numeri reali il numero meno 2 terzi. Disegnato in rosso con una linea continua l'insieme dei numeri che sono soluzione per la nostra disequazione, x minore di meno 2 terzi. Visto che non compare il segno di uguaglianza, meno 2 terzi non è soluzione per la nostra disequazione, quindi lo abbiamo indicato con un pallino vuoto. Infine abbiamo disegnato una linea tratteggiata nera per indicare l'insieme dei numeri che non è soluzione per la nostra disequazione, nella fattispecie quelli maggiori di meno 2 terzi. Bene ragazzi, per quanto riguarda questa video lezione non c'è altro. Sperando che sia stata chiara vi ringrazio per averla seguita.